E' il 92esimo minuto, Mignani si gira in panchina del Mignani del mister del Bari, chiama Mirko Antenucci, gli chiede Antenucci ti va di tirare questo rigore importantissimo? Mirko dice sì mister, fa il cambio, Antenucci è ancora freddo, va sul dischetto del rigore e spiazza Radunovic, il portiere del Cagliari, segnando un gol importantissimo per il Bari in vista proprio di stasera, stasera che si giocherà il ritorno della finale di Serie B playoff, valida per la qualificazione in Serie A, quindi Bari-Cagliari stasera, Forza Bari, i cuori bianco-rossi tremano e incitano la squadra del loro cuore, iscriviti al canale per seguire tutti gli aggiornamenti di questa incredibile partita stasera che andrà di scena al San Nicola di Bari, vediamo come va a finire, ma comunque per il Bari è una grandissima stagione e iscriviti al canale, sempre Forza Bari, cheers! Grazie! Grazie!